John Borno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video, qua vado un po' a toccare voi, voglio sapere la vostra, non andrò a sponsorizzare il volantino questa volta perché non ho il volantino quindi sarete contenti, però per chi mi voglia incontrare nei prossimi giorni lascio il commento qui sotto c'è scritto come fare e quando fare, detto questo ragazzi, allora di cosa voglio parlare? Voglio parlare di Edin Dzeko, Edin Dzeko perché parlare di Edin Dzeko? A proposito dei pronostici escono domani o stasera, ora vediamo, non so, sono un po' indeciso, perché Edin Dzeko è nelle grinfie del Milan, nel Milan vorrebbe Edin Dzeko, si parla di uno è un'offerta mastodontica per me, per l'età chia, cioè un 31enne, 35-40 milioni è un'offerta mastodontica, soprattutto se fai a pensare che è stato pagato circa 14 milioni compresi i bonus, se non vado errato, per cui ragazzi 14 milioni, prenderlo a 29 anni, prenderlo ti fa una stagione da 40-35-40 costagionali e poi rivenderlo a 35-40 milioni è tanta roba, specialmente perché con quei soldi magari aggiungendoci qualcosa potresti vendere un attaccante top player forte e giovane, però, però, allora, io l'ho sempre detto, io non ho mai nascosto il fatto che Edin Dzeko da quando ci arriva da Roma è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti, l'ho difeso nel male, mi sono presi peggio insulti, l'ho visto risorgere, l'ho ringraziato per avermi dato questa possibilità di prendermi le mie rivincite, però c'è da dire anche che va visto da più parti, cioè io non è che Dzeko è il capitano, che Dzeko lo amo, cioè Dzeko è un giocatore, un gran giocatore, un buonissimo giocatore che ha fatto tanta roba quest'anno, perché 40 costagionali, 35 costagionali per ora, 35 gol stagionali sono 35 gol 36, mi ricordo, sono comunque un botto di gol stagionali, soprattutto per un attaccante che per molti era stagionato e soprattutto per un attaccante che ha 29 anni, quindi al top della propria carriera, è pagato 14 milioni. Ora, 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 a me, sinceramente Dzeko mi ricorda, non so a voi, in misura anche un po' minore forse, però mi ricorda il Mandzukic delle altre squadre, non della Juventus, a Ligri gli ha dato un'altra faccia a Mandzukic, cioè lo ha messo a lottare sulla fascia, lo ha messo a fare il giocatore di sacrificio, Il Mandzukic delle altre squadre, vedi il Bayern Monaco per dirne una, era un giocatore che si piazzava davanti la porta e ti sfondava la rete, cioè Mandzukic era un giocatore capace, nonostante a me non piaceva prima di andare alla Juventus, perché aveva delle qualità che personalmente non mi piacciono e anche a me Dzeko prima di venire alla Roma non piaceva, perché ha delle qualità che non mi piacciono. Alla Roma Dzeko ha cominciato a giocare molto più, ovviamente sto facendo un paragone molto distaccato fra i due, perché mentre Mandzukic comunque era il giocatore che segnava un botto, Dzeko segna un botto però ti fa anche molto dietro, ti fa le sponde, ti fa salire della squadra, ti tiene sulla squadra, ti fa dei lanci ottimali ragazzi, Però comunque era quel giocatore che comunque tu dici, sì non varrà mai 80, non varrà mai 70 milioni, non entrerà mai nei 10, 20 attaccanti migliori del mondo, però segna, cioè se tu devi a Dzeko, devi a un giocatore che ti ha fatto 35 gol quest'anno, quindi alla fine uno va a fare un paragone e dice, ne vale la pena? E io non lo so ragazzi, sinceramente non lo so, da una parte per creare una Roma come la vuole Monci, ovvero una Roma pronta, una Roma giovane, una Roma veloce, una Roma nuova, una Roma con una nuova linfa, questo serve, serve più gente di 25 anni, veloce, che corre, che vale tanto e che può dare tanto alla Roma per tanto tempo, Piuttosto che un giocatore che fra 2 anni, probabilmente 2-3 anni si ritirerà e adesso ci vuoi fare 40 milioni, però d'altra parte è il giocatore che mi ha fatto gridare per tutto l'anno, a sentire dal commento, eh Dean! La risposta da me allo staglio è sempre stata Dzeko e questo mi farebbe molto molto triste, ma deve sapere qui sotto che cosa ne pensate raga, mi raccomando, boccia lalala e lasciate il mi piace se vi è piaciuto, boccia lalala, ci vediamo al prossimo video.